Ciao a tutti ragazzi, io sono la Bernic e oggi siamo qui in un nuovissimo video insieme a un mio amico Infatti mi arrivano sempre i messaggi di Whatsapp, mi sa che lo devo mutare quando faccio i video Però vabbè, praticamente sono qui con un mio amico che vi lascio il link in descrizione del suo canale Che adesso non mi ricordo più come si chiama perché ha cambiato il nome quindi non mi ricordo più Vi lascio il link in descrizione, adesso lui mi ha annunciato il gioco per fare la intro Perché quando mi mutava ci sentivamo ancora e quindi niente, ci sentivamo e quindi niente Ok credo che è arrivato, ok perfetto Andiamo a coppia Ok facciamo una coppia, una duo e dobbiamo fare la win Ciao canale di Alessio Ok ragazzuoli vi invito a lasciare un bel mi piace Vi invito a lasciare un bel Condividete il video E' meglio che il suo Ha tanta gente Ma tu adesso quanti iscritti hai? Adesso l'ho aperto da pochi giorni il canale e c'ho ne ho più 3 Ah anch'io l'ho aperto da pochi giorni, ce l'ho da due giorni il canale e c'ho 41 iscritti Eh non so ma io adesso faccio una cosa che tutti arrivano a mille iscritti adesso Cioè cosa hai fai? Non so Ok sempre il bug è qua Va bene dove scendiamo Non so scelga lei Dov'è? Ok Anche nel mio video che ho appena messo Cioè in realtà l'ho messo tipo due rette fa E sono scelta Borgo Beslack Io c'ho un falò io lo tiro in faccia eh A chi vedo Uh bella Gigi Eh appunto l'ho sentito anch'io E sotto di me Arrivo Questo video Questo video è simile al video che ho fatto con Daniele Perché le persone erano qua No non ci credo è uguale identico 33-1 33-1 Ok Gigi Oh ma Ok una kill per me Una kill per lui Ok Gigi Io gli ho fatto Gli ho spaccato il tetto di sopra E io gli ho fatto Gli ho rotto il tetto sopra Gli ho tolto il tetto sopra E Dopo l'ho aiutato E boom Colpi Colpi M4 Oh c'ho Oh porco schifo Oh quanta gente Eccala Ma dov'è che sono Ah ma io l'ho dietro Ah non avevo Cioè io ho visto che erano davanti a me E poi mi hanno fatto il giro Vabbè partita schifosa Riscaldamento Questa è la mia prima partita Riscaldamento E' solo il riscaldamento Tranquillo Adesso Già sono giù Pinnacoli Adesso non scherzo Pinnacoli Ok ragazzuale Io Cioè io Io vi aspetto in partita Comunque ragazzuoli Ci siamo Ma quanto fanno schifo Ma Ma solete Switchare Le doppie pistole Fare le doppie Pistole Le pompe Cioè E' impossibile Fare 50 41 Ok Dove andiamo Non lo so Dov'è Oh è da un po' che non ci vado là Io mi butto Dai una partita Proprio Easy Cioè una partita Strana Facciamo Top 10 Ah io con Dani Con Daniele Sono arrivato Top 8 E praticamente Alla fine Mi sono fatto una solo Versus 2 Perché Daniele E' morto subito Sì E quindi Mi sono fatto una solo Sì Di pushare E sono morto Perché C'erano Tre team Tre team C'erano Cribbio Poi quello Mi ha laserato Di brutto E quindi Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta We could Ah lo ebordi Non ce l'ho fatta Ah quella roba lì Anch'io Sì Lo ebordi Io ci interrattano malice Tipo Mai Mai usato Mai anch'io E io tipo Dall'altro ieri Che non gioco Ieri sera io ho solo editato, anche io ho un rift, ieri sera io ho solo editato, che pompaio, ah porco schifo, io ho barrette viola e due scildoni, a te ti serve? Sì quelli che hanno i 50, hai scildini? Ok perfetto, te lo lascio qua dove sono io, mi serve perché non ho un pompa, un qualcosa vicino, ok oh, vabbè ti porto, oh ma mi fai pigliare i colpi, ok, oh mamma mia ma il gioco mi vuole bene, e chi è che ha trovato, no a me sì bene perché ho trovato lo scar, e mamma mia mamma mia, pure nel video di Daniele ho trovato, nel video di Daniele ho trovato tre scar, uno viola, poi uno, ho ammazzato uno, è leggendario e, e poi boom, mitaglietta blu dov'è? oh qua c'è, c'è una slurp, c'è una slurp, qua, oh quella slurp, tieni, ah ok, io devo andare in bagno, mi sa che me la campro un attimo e torno subito, sì mi sono dimenticato di andare prima, io mi campro un attimo qua, arrivo subito, ok ragazzi ci sono, oh buona buona, ok io ci sono, oh un rift e io, un rift e una slurp, siamo in safe, bella, oh me ne sono accorto adesso chiamiamo tutte e due re di ghiacci, ce l'ho io, la vuoi? ma secondo me non conviene, secondo me la sprechi, perché fai caldo che ti ha 75, tu per 25 di vita lo sprechi, qua c'erano delle bende se vuoi eh, sono preso, un tappo più dal distruttore, e poi c'ho la coppa, ah non ce l'avete? se c'è essa, è a legno, è a legno, eh io non ce l'ho legno, eh 225 di legno, io non ce l'ho, mi devo fare il legno, eh, però io voglio, aspetta, io voglio prendermi le cose, il pompa, c'è farmi un po' anche te un po' di legno, poi dopo un pelino me ne dai un po', io ne ho 200 adesso, chi è che ha usato la roba, tu? eccala oh mi fai preghiare l'infartico sta caldo di funivia ok, io vado a prendermi, vado a prendermi, vado a prendermi, vado a prendermi, il pompa, qua si sta, si ok, ok, e chi è che ha messo la jump? eh, chi è che mi chiama? eh, aspetta, lo rispondo dopo no, no, non rispondo adesso, lo chiamo dopo e non lo so io l'ho lasciato qua un, una mitarietta blu perché, perché ho due rift e un anti-lirpe va bene, c'è una jump, non è nostra va bene ok, dove va la jump? io mi son perso tutto bene, calma oh, mi sto impicciando, ok, ci sono io sto cercando gente, se la vedo magari dov'è che la... ma... ma di chi è sta jump? controlla... no, restiamo un attimo qua a controllare se c'è... ah, ma vero, dobbiamo andare safe io ti consiglio... vabbè, no, no, niente, scherzavo aspetta che mi sospettiscono ok ah, ok, senti che hai sparato ma una cosa, ma colpi... R? 86 dov'è il cecchino? c'è il cecchino l'aereo dov'è gente? l'ho fatto un mix da 22 l'ho fatto ma dov'è? l'aereo? si, ma c'ho chinato uno all'aereo oh, mi stanno pushando ok, è morto ok, è morto, scusa per... ti ho fregato la kill ma l'amico ma dov'è? forse l'ho visto, non lo so ma la kill me l'ha data? ah, si si l'amico non lo so io ho finito match se me ne puoi dare un po' orco schifo è li giornato, è li giornato sto maledetto sto maledetto ah ma indietro eh si, è il mitido maledetto sto maledetto pezzo tra le gare di pacchina ma non ci sono 감사합니다 uuuhh dai 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 No dai Mi volevo mettere la trappola Ma che cazzo si balla sto nab Mi volevo mettere la trappola Ma non me l'ha messa Io finisco qua il video Ciao ragazzuoli Io vi saluto Vi invito a lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale E a me E con il tizio Caglio Sembroio E di Alessio E' tutto Ciao